comunque la pianta vegana non mi rispondi non ho capito la domanda pianta vegana mi puoi spiegare cosa? dici pianta vegana mi puoi spiegare cosa? spiegare cosa? mi puoi spiegare che cosa? le frasi vanno fatte con un soggetto un verbo e un complemento oggetto se ti andate a scuola soggetto verbo complemento oggetto spiegati bene cosa vuol dire spiegati bene? che vuol dire spiegati bene? spiegati bene di cosa? di qual è il soggetto? qual è il verbo e qual è il complemento oggetto? non mi spiego bene? è serio tu che non capisci? o so io che mi spiego male? io so spiegarmi in questo modo diversamente non so spiegarmi che ci posso fare? sono poco chiaro questa è la mia caratteristica vai su una live dove ci sono persone che spiegano in modo più chiaro questo è il mio modo di spiegare che è un troll o non troll non lo so io però diversamente non so non sono in grado di spiegare diversamente questo è il mio modo ma d'altra parte c'è una grande offerta vabbè ma non importa d'altra parte c'è una grande offerta c'è una grande offerta ho la terza media presa al ceppu al ceppu però come dire no ma aspettate vabbè Don Matteo l'ha eliminato però era divertente la pianta vegana ma vabbè ma è divertente divertente d'altra parte